benvenuti e ben ritrovati terzo appuntamento con zona lupetti il format dedicato tutto al nostro settore giovanile under 19 17 15 13 e under 15 e 17 femminile sono solo qui sulla cbtv ogni giovedì con noi per questa terza puntata c'è il mister Walter Simonetti l'allenatore dell'under 17 un saluto mister buonasera a te grazie per l'invito e buonasera a tutti gli appassionati questa settimana davvero tanti i contenuti da vedere abbiamo gli highlights dell'under 19 dell'under 17 e dell'under 15 che hanno giocato sabato e domenica e allora diamo uno sguardo alle grafiche con i risultati maturati sui campi l'under 19 di mister piccerilli ha vinto per 1 a 0 contro l'arezzo l'under 17 e 15 invece impegnate contro l'ascoli due partite difficili lo sapevamo finite per 0 a 4 e 2 a 5 allora mister partirei proprio dalla partita di domenica l'avversario tosto lo sapevamo abituato a questi campionati partita difficile per l'under 17 di mister Walter Simonetti e Roberto 40 contro l'ascoli e 0 a 4 le armi dei bianconeri senza dubbio le palle inattive arrivano così infatti i primi due gol nel primo tempo con valori nel secondo invece con verdone i lupetti provano ad attaccare ma senza creare veri pericoli gli ascolani oltre a due pali impreziosiscono il risultato con due bei gol la doppietta di valori da fuori aria e poi con donzelli che di mezzo esterno infine in rete abbiamo incontrato un'altra blasonata del nostro girone e per noi ovviamente questo non deve rappresentare una scusa ma è solo un motivo di confronto e crescita per noi sono squadre che in questo momento l'ascoli, l'adernana, pescare e benevento possono essere un attimino un gradino sopra rispetto alla nostra attuale condizione però questi incontri ci stanno dando sempre di più una certa fiducia e anche una linea sulle metodologie da allenare in settimana mister diciamo noi siamo una squadra nuova a prova in questo campionato da quest'anno però sono arrivati già a tanti aspetti positivi sì 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 siamo una squadra nuova abbiamo diciamo la necessità la fretta di dover dare loro innanzitutto delle giuste indicazioni tecnico tattiche ma anche dargli il tempo di potersi assemblare come gruppo di poter trovare giusti meccanismi, giusti equilibri e quindi questo richiede sicuramente un tempo necessario ecco parliamo di tempo adesso avremo due settimane prima o meglio una settimana di pausa ma due prima del prossimo match di campionato ci sarà occasione quindi di amalgamare ancora al meglio il gioco della squadra sì una pausa che arriva direi forse al momento opportuno perché come dicevamo prima questi diciamo tre incontri ci hanno un po' fatto capire quale strada dobbiamo seguire e su cosa abbiamo la priorità di dover intervenire quindi su cosa dobbiamo lavorare in maniera prioritaria e in queste due settimane cercheremo di prepararci al meglio per la ripresa e allora torniamo alle partite che si sono giocate sabato con il match vinto per 1-0 dei ragazzi di Mister Piccirilli esordio in casa da incorniciare per i ragazzi di Mister Piccirilli che contro l'Arezzo dimostrano grande cinicità e solidità difensiva portando a casa i tre punti la prima occasione della gara arriva al terzo minuto di gioco cross di Antenucci arretrato Rihanna si fa trovare pronto colpisce la sfera che viene salvata sulla linea dieci minuti più tardi la prima occasione ospite rimessa laterale di granata pallone scodellato al centro dell'area sponda cieli di testa ad un passo dalla rete del vantaggio partita molto equilibrata e bloccata nella prima frazione che termina senza ulteriori squilli il secondo tempo è decisamente più movimentato la rete dei lupetti arriva al settimo minuto cross al centro dell'area di La Selva braccia colpisce di testa sulla ribattuta si fa trovare attento lo stesso braccia che insacca l'Arezzo non demorde e prova a reagire ma senza particolari pericoli almeno sino alla mezz'ora quando sugli sviluppi di un calcio di punizione è la traversa a salvare la porta di Ria lo stesso Ria protagonista di un grande intervento in uscita su Camerini tra i più in forma dei toscani l'ultimo brivido del match proprio nel recupero dove la deviazione di Faziolli è determinante sul tiro di oscurato indirizzato a rete bottino pieno per i ragazzi di Mr. P. Cirilli due su due in campionato un risultato importante la prestazione un po' meno tu sai che io ci tengo parecchia la prestazione e ci teniamo il risultato la prestazione del primo tempo e il secondo tempo sinceramente non mi è piaciuto non sono soddisfatto però il risultato comunque alla fine conta e ce lo teniamo stretto il secondo tempo abbiamo avuto semplicemente paura di giocare non abbiamo giocato per niente non siamo stati quelli del primo tempo timorosi, frettolosi non abbiamo approfittato della loro pressione che alla fine è una cosa che noi vogliamo e sinceramente meritavano loro il pareggio il primo tempo bene uscivamo molto bene il problema è che quando arrivano le palle in avanti non riusciamo a pulirle, a giocarle pulite praticamente andava quasi sempre a loro la palla a livello di prestazione, di grinta, di umiltà quello che avevo chiesto c'è stato anche il secondo tempo se ci aggiungiamo anche il gioco sarebbe meglio settimana prossima andiamo a Cava penso sia un'altra battaglia oggi c'è il campionato secondo me già detto che sarà un campionato equilibrato tosto da tutte le parti allora mister abbiamo visto la partita giocata dei ragazzi di mister Piccirilli che ha iniziato benissimo il campionato due vittorie su due sì sì va bene le potenzialità del mister con il suo staff le conosciamo e rappresentano comunque una certezza c'è anche una continuità di progetto avendo già una base di ragazzi sui quali lui ha potuto lavorare negli anni precedenti e quindi anche quelle rappresentano delle certezze fondamentali che in questo momento gli stanno tornando utili e sono convinto che come al solito la sua bontà la bontà del suo lavoro e del suo staff ci farà vedere cose sempre migliori lui ha delle idee ben precise di gioco ha delle metodologie ben consolidate e sono sicuro che pian piano sarà sempre in ascesa e allora torniamo nuovamente ai match che si sono giocati domenica questa volta con gli highlights della partita dell'Under 15 sconfitta interna per l'Under 15 di mister Savino Ianni Ruberto e Michele Colitti al comunale di Campo di Pietra finisce 2 a 5 tra Campobasso ed Ascoli una delle favorite del girone il gol del vantaggio bianconero arriva sugli sviluppi di un calcio di rigore molto dubbio l'intervento di Ferrara non solo sul pallone ma l'azione fuori dall'area di rigore sulla battuta dal dischetto Sirocchi sigla nonostante l'intuizione di Micco lo stesso Sirocchi ad inizio secondo tempo raccoglie uno splendido passaggio in area di rigore infilando di precisione con il piattone la rete dello 0-3 arriva sugli sviluppi di un calcio piazzato sulla battuta Spano che calcia la sfera in area di rigore una carambola porta il pallone tra i piedi di Sinani che insacca i lupetti reagiscono qualche minuto più tardi con la rete di Spampinato bravo ad approfittare del rimpallo favorevole e ancora il bianconero Sinani a timbrare il cartellino con quest'azione personale un errore nel disimpegno condanne lupetti alla quinta rete ospite sul finale però c'è spazio per questa perla dalla metà campo di Scarpati che porta la gara sul definitivo 2-5 Primo tempo la squadra ha tenuto abbastanza bene forse nel secondo è mancato un po' di lucidità Sì, hai detto bene, è mancata lucidità c'è stata troppa frenesia, troppa confusione lo dimostrano il quarto e il quinto gol sono componenti che non mi piacciono non devono appartenerci bisogna giocarsi la partita fino alla fine mantenendo sempre quelli che sono i nostri principi le nostre idee, la nostra convinzione non mi è piaciuto ripeto, al di là del risultato l'atteggiamento dell'ultima parte di partita non mi è piaciuto La reazione comunque c'è stata il primo tempo secondo me è stato molto compattuto contro una squadra, lasciatemelo dire, forte che ha fatto valere la sua prestanza fisica siamo andati sotto per un calcio di rigore e comunque all'inizio del secondo tempo i ragazzi sembravano entrati bene poi nonostante il 3-0 abbiamo comunque continuato a giocare poi il quarto e quinto gol gli ultimi dieci minuti della partita non li abbiamo gestiti bene né tecnicamente né soprattutto con la testa abbiamo una sosta adesso quindi due settimane di lavoro che sono importanti per noi perché come ho sempre detto siamo una squadra nuova lavoriamo insieme da solo un mese quindi queste due settimane ci daranno la possibilità di andare a lavorare su qualche aspetto che fino ad ora non ci sta piacendo è una sosta che arriva nel momento giusto ci dà la possibilità di focalizzarci su quelli che insomma sono stati gli errori di gestione che abbiamo avuto soprattutto nell'ultima parte di gara errori tecnici ma errori anche mentali insomma ci siamo scollati tra i reparti insomma abbiamo gestito male anche la comunicazione tra i vari reparti appunto quindi sicuramente ci serviranno per ricalibrare per prepararci alla prossima tra due settimane invece la trasferta a Caserta sì sarà un'altra partita che ci dirà a che punto siamo abbiamo avuto queste tre partite prima della sosta che ci hanno già dato delle indicazioni ripartiremo sicuramente con grande fiducia e grande voglia di riscattare questa prestazione mister under 15 e 17 si sa sono strettamente collegati tant'è vero che le due squadre condividono lo stesso rettangolo di gioco dunque è un collegamento sempre più stretto che avete fra le due squadre diciamo come state lavorando anche insieme? no c'è un'ottima sinergia ci si confronta spesso c'è parecchio confronto e dialogo noi siamo attenti su quelle che ovviamente sono le loro evoluzioni anche perché ci interessano direttamente perché avremo comunque la necessità di vedere già da oggi dei ragazzi che possono l'anno prossimo fare il salto di categoria ma questo devo dire che avviene anche con i mister e lo staff dell'altra categoria nonostante l'orario dell'allenamento non coincida però ci si confronta molto ci si sente, ci si ferma a vedere gli allenamenti per cui c'è collaborazione, c'è interesse comune tornando anche al grande lavoro di scouting che è stato fatto e tutto quello che consegue anche per la costituzione delle squadre mi dicevi che c'è stata grande collaborazione da parte delle società sì, sì, di fatti permettimi di fare un elogio e un ringraziamento a tutti i miei colleghi che lavorano con un grande senso di responsabilità con una grande competenza sul territorio e che grazie al loro lavoro abbiamo potuto visionare e anche selezionare parecchi dei ragazzi che sono sul territorio e voglio fare anche un invito a tutti i ragazzi di continuare a lavorare perché noi siamo vigili sul territorio ancora oggi non è che le porte sono chiuse con gli seggi che sono stati fatti ci saranno altre finestre per cui in queste altre finestre sicuramente qualcuno potrebbe rientrare ed è fondamentale che i ragazzi continuino a lavorare con questa prerogativa e con questa possibilità di poter comunque rientrare nel campo basso il prima possibile con te c'è anche un collaboratore, un altro amminatore tecnico che è Roberto Quaranta sì, 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 ogni staff è stato messo a disposizione un collaboratore, io ho la fortuna di avere come collaboratore Roberto Quaranta che è un ragazzo, è un tecnico molto competente ha esperienza di calcio giocato e questo per noi rappresenta un grande vantaggio io sto cercando di sfruttare a pieno queste sue competenze abbiamo anche il preparatore atletico Matteo Di Maria che ci sta dando davvero un grande supporto, una grande mano anche lui è un ragazzo molto competente e devo dire che io ho notato che è stata fatta una grande selezione per quanto riguarda l'organizzazione degli staff posso dire che secondo me in tutte e tre le categorie ci sono competenze ci sono persone responsabili e ci sono soprattutto delle persone che hanno voglia di arrivare Perfetto mister, noi siamo in chiusura? Beh, in chiusura mi auguro con l'ospicio di poterci rivedere la prossima volta tempi migliori di poterci trovare quando abbiamo cominciato a dare continuità anche alle prestazioni e ai risultati Si conclude così la terza puntata di Zona Lupetti io vi ringrazio e vi rinnovo l'appuntamento a giovedì prossimo e ovviamente Forza Lupi